Arrivano da Roma importanti novità in vista della riattivazione della ferrovia Fano Urbino. Le commissioni parlamentari competenti hanno infatti espresso parere favorevole all'aggiornamento del contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana, confermando lo stanziamento già previsto di un milione di euro a favore di uno studio di fattibilità per il ripristino della tratta ai fini turistici. Nei pareri approvati sono state inserite specifiche osservazioni che attribuiscono una particolare priorità alla ferrovia metaurense. Il Senato segnala così l'importanza di azioni mirate in particolar modo riferite alla riattivazione della Fano Urbino. Il tutto grazie all'impegno della senatrice Rossella Cotto e del presidente della commissione lavori pubblici, senator Mauro Coltorti. Il pressing del deputato Roberto Rossini è servito inoltre per includere nel parere della commissione trasporti della Camera la destinazione prioritaria delle risorse al ripristino delle condizioni di circolabilità sulle linee individuate dalla legge sulle ferrovie turistiche in cui rientra anche la Fano Urbino. Le risorse stanziate sono reali, ha detto la senatrice Cotto assieme all'onorevole Rossini. L'importante segnale politico che arriva dalle commissioni parlamentari conferma così la volontà delle istituzioni di investire sullo sviluppo del territorio che passa anche attraverso il potenziamento del trasporto pubblico nell'ottica della mobilità sostenibile. I portavocefanesi del Movimento 5 Stelle esprimono dunque grande soddisfazione.